tigelle in padella. In un contenitore capiente metto la farina, l'acqua, il lievito, l'olio di semi, il latte, mescolo, poi metto il sale ed impasto a mano per 5-6 minuti, poi formo una palla, metto nel contenitore, copro e faccio lievitare per due ore. Dopo due ore passo su un piano infarinato e stendo con il matterello. Ho ottenuto una sfoglia spessa poco meno di un centimetro, faccio due dischi con un coppapasta o con un bicchiere, sistemo su un canovaccio e faccio riposare per altri 30 minuti. Passati 30 minuti dispongo in una padella calda, copro con la carta forno e pressando con un peso faccio cuocere circa 2 minuti e mezzo per lato, poi tolgo il peso e la carta forno e faccio cuocere ancora per 90 secondi in modo da far evaporare un po'. Ed eccole qui, mangiatele calde e farcitele a piacere. Buon appetito!